Il brutto inizia ormai alle spalle, avete ingranato la marcia giusta e sembrate non volervi fermare più. Sì, abbiamo affrontato questa partita con la cattiveria giusta e dopo il primo tempo abbiamo messo a sicuro il risultato, anche se potevamo fare già meglio nel primo tempo e chiudere la partita con qualche gol di vantaggio, però giocando così con un modulo con molti giocatori di attacco è un po' più difficile, ma proveremo a fare meglio nelle prossime partite. Appunto l'attacco, l'attacco che vede una grande duttilità e un grande affidamento tra te e gli altri componenti. Sì, il mister ci ha chiesto un po' di sacrificio essendo tanti lì davanti e ognuno di noi sta cercando di dare il massimo per poter giocare in questo modo e quindi per poter attaccare le squadre e fare il risultato. Domenica c'è stato il rientro del capitano, Christian Desio, subito una doppietta, quanto è importante per questa squadra? Sicuramente Christian è un giocatore fondamentale per la nostra squadra, si è visto domenica, ci ha dato una grossa mano, per questa partita e ci è mancato nelle partite iniziali, penso che si è visto e sicuramente ci ha dato una mano da ora andare in avanti. È mancato per una grande squalifica, un altro tipo di squalifica, allo stesso modo corposa, ha colpito il vostro mister Giovanni Liguori. Sì, ormai non ne possiamo più con queste squalifiche, sembra che lo facciano apposta gli arbitri, ma va bene così lo accettiamo, cosa possiamo fare? Un'ultima battuta, domenica prossima c'è il Temeraria, una vittoria per proiettarvi nelle prime posizioni. Sì, sicuramente è vero, però la Temeraria sappiamo che è una squadra molto forte, giochiamo su un campo molto ostico, quindi cercheremo di dare il massimo per portare a casa i tre punti e quindi raggiungere la vetta della classifica.